Semplicità, chiarezza e stabilità delle norme. Sono queste le parole chiave usate dal commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini durante la presentazione del testo unico della ricostruzione privata, adottato per la prima volta nella storia dei terremoti in Italia. Un documento che raccoglie in 131 articoli e 15 allegati, oltre 550 a disposizione e 65 allegati contenuti in 61 ordinanze, che vengono contestualmente abrogate e accompagnato da un'ampia relazione illustrativa per agevolarne la lettura. Innanzitutto il fatto che sia un testo organico, completo, sistematico, in luogo di 61 ordinanze, rende la vita più semplice ai cittadini, ai progettisti, all'impresa, ai sindaci, a tutti gli interlocutori. Il nuovo testo entrerà in vigore il 1 gennaio 2023 insieme alla piattaforma telematica GEDISI per la gestione delle pratiche di ricostruzione e si applicherà a tutte le richieste di contributo presentate dopo quella data e su richiesta dei titolari a quelle già presenti ma non ancora giunta al decreto di concessione. L'obiettivo è di garantire semplicità, chiarezza, stabilità della normazione, dare regole che siano comprensibili, applicabili, semplici. Questo è un fattore potente di accelerazione della ricostruzione. Sul futuro della struttura commissariale per la ricostruzione post-esisma Centro Italia e sulla scadenza a fine mese del suo mandato di commissario straordinario, Giovanni Legnini ha spiegato che a suo avviso è necessario un tempo non troppo lungo perché il testo unico e la nuova piattaforma digitale possano avviare il loro percorso per completare alcune ordinanze speciali e alcuni programmi come quello per le opere pubbliche e per le chiese.